Siamo qui con Florian Pisani, play del momento, oggi rivolta ha vinto, ha vinto contro i primi in classifica, una partita perfetta. Cosa ci sai dire di questa partita che ti ha visto veramente grande protagonista? Sono contento della partita e... Il bello della diretta. No, niente, abbiamo vinto la partita soprattutto in difesa, abbiamo difeso bene, infatti abbiamo fatto solo 46 punti e è stata una bella partita. Quindi, come detto anche prima, dopo un primo quarto equilibrato siete venuti fuori, veramente una prova di squadra, abbiamo visto tutto, corsa, tecnica, gioco, cambi perfetti, veramente una partita che non vi ha visto sgarrare nulla. E quando ci si allena bene poi le partite vengono, i risultati vengono ovviamente. Ok, adesso per il continuo della stagione, Florian, cosa ti aspetti? Spero di essere una buona alternativa a Danilo e cerco di impegnarmi e fare un buon campionato.